Il sapere, io penso che il sapere, chi ce l'ha, lo deve seminare come si semina il grano. Buttarlo sulla terra, sugli uomini, il proprio sapere, spenderlo. Il sapere non deve essere un'elite, il sapere deve essere l'uso quotidiano nostro. Il giorno in cui questo avverrà, saremo veramente uomini sulla terra. Io ho una fiducia sconfinata nell'uomo. Io credo che l'umanità riuscirà a uscire bene da qualsiasi situazione. Questa fiducia mi dà fiducia. Il sapere.